Io ho visto probabilmente il miglior primo tempo stagionale del Pescara per qualità, per intensità, per qualità delle palle golle costruite. È un pari che le va stretto anche in virtù della gestione dei cartellini dell'arbitro oppure è contento? Ma non sono contento di 10-12 minuti che abbiamo fatto in cui un pochino ci siamo abbassati, ci siamo un pochino snaturati. Parlo del primo tempo, subito dopo abbiamo preso gol sugli sviluppi di un calcio piazzato. Poi invece siamo alzati, abbiamo reagito, abbiamo creato, abbiamo costruito, abbiamo sciupato purtroppo. Però poi la partita l'abbiamo gestita bene, tranne nel momento in cui facciamo le solite stupidaggini, un po' leziose, un po' ingenue. Un po' però tra Giambò e Pompetti in quel momento stavamo comandando la partita, tutti e due vanno oltre la palla. Ci incischiamo, diventiamo leziosi invece di essere risoluti e cattivi nel chiudere l'azione. Ci esponiamo e prendiamo la seconda ammunizione di Lanes, che è stato ammunito dopo 15 minuti con Pompetti, ma due pesi e due misure. Ci siamo dovuti accontentare perché però noi abbiamo sempre provato a vincere. E' chiaro che poi quando devi fare 18-20 minuti, con un uomo in meno, sei in gioco forza costretto a perdere 20 metri di campo. Le scelte dall'inizio. Lei ha deciso di rinunciare a Ferrari dal primo minuto mettendo De Marchi nel ruolo di esterno. Le è piaciuta la risposta che ha avuto? È Dursi che non riesce a sbloccarsi. Ma che succede? Perché lui deve pensare meno al gol, ma comunque davanti hanno fatto bene. Per quanto riguarda Ferrari, lui non è un giocatore che può fare 180 minuti in tre giorni ad alto livello. Però invece è entrato molto bene in partita. Era quello che pensavo di fare. Insomma, era un piano preordinato. Sapevo che 35-40 minuti li poteva fare bene ed è questo quello che ha fatto. Ha fatto molto bene Rauti, a mio giudizio. Sì, pure secondo me. Le chiedo sul portiere, perché lei dopo la partita di Imola, proprio ai nostri microfoni in diretta, aveva detto gioca Iacobucci. Abbiamo visto la formazione, c'era Sorrentino. Perché? E poi che cosa è successo a Sorrentino? Avevo cambiato idea e poi durante l'iscaldamento Sorrentino si è fatto male, quindi Iacobucci è non predestinato. Sono contento perché è un ragazzo ottimo, oltre che portiere forte. Cosa ha fatto Sorrentino? Gli ha fatto bene, ma credo è un problema muscolare durante l'iscaldamento. Io le chiedo l'ultima cosa prima delle domande da studio. Le chiedo, se ci può essere un po' esplicito adesso, visto che non ci sono più partite da giocare nel 2021, le linee guida che chiederà per il mercato. Di cosa ha bisogno questo Pescara, Auteri? Ma io faccio sempre fatica a parlare di mercato. Adesso si deve. Sì, ma magari ne parleremo, però... Una cosa sola, dai, per gli auguri. Ma le linee guida, l'ho già detto prima, ai giocatori che abbiano voglia di allenarsi e di fare bene il proprio lavoro, che siano integri, perché comunque noi lavoriamo, non andiamo in campo a spostare i bicchieri su un tavolo. Andiamo in campo per lavorare, quindi ci vuole gente che abbia motivazione, voglia, integrità fisica, perché è importante. È più questo. Ruolo? Ruoli tutti. Un giocatore per reparto. Diciamo che si deve, un giocatore per reparto. Insomma, Massimo, questa mi sembra che sia già una bella affermazione di Auteri, a cui do l'auricolare, per una domanda da studio, o anche due, se volete. Intanto saluto Max Mucciante. Hanno l'aereo? Ok, deve andare veloce, Auteri. Sì, allora faccio fare la domanda a Fabio, che è un tecnico e mi sembra giusto. Mister, buonasera, innanzitutto auguri di un buon Natale. L'unica cosa che volevo chiedere, il tridente, parlavamo prima con Massimo, prima di entrare in diretta, il tridente che ha scelto all'inizio, lo ha fatto perché magari voleva ripartire un po' su qualche spazio che l'Ancona ogni tanto concede, quando poi va a buttare qualche palla e cerca di andare sulla seconda palla, magari un po' si apre, si sbilancia, allora con questo tridente un po' più di gamba, magari quella era la sua intenzione, immaginiamo. Ma sì, ma infatti era quello, a parte i giocatori più freschi, perché De Marchi e Rauti sono giocatori freschi, sono giocatori di gamba, ma questo l'abbiamo anche fatto, perché nel primo tempo proprio in situazioni di break abbiamo ribaltato tante volte il fronte offensivo in un attimo e però non siamo riusciti a concretizzare, ma comunque al di là di quello nell'economia di una gara sono tutti importanti. Ferrari è un giocatore che, come ho detto prima, 180 minuti in tre giorni non li fa bene e quindi ho fatto questa scelta. Perfetto, l'abbiamo interpretata anche noi da studio, evidentemente. Ebbene è così, no, siamo contenti per questo. Io dico un'ultima cosa, dico... Grazie, grazie. Un'ultima cosa io al tecnico Auteri, poco fa Sebastiani, quando ho chiesto che cosa non ha funzionato in quel mese e mezzo, dove sono mancati i risultati, ha detto dovremmo stare tutti un po' zitti perché abbiamo parlato troppo, invece Auteri deve fare quello che pensa. Invece Auteri deve fare quello che pensa, deve essere... Beh, me l'ha scatto. Ha fatto un complimento. Beh, grazie, voglio dire, abbiamo idee, quindi andiamo avanti. L'obiettivo vero è quello di fare il 30% dei punti in più che abbiamo fatto all'andata. Abbiamo fatto i 31, quindi fate un po' voi i conti. Questo è l'obiettivo, sarà.